Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti. Gli ingredienti sono zucchine, parmigiano, pecorino, pinoli, sale, olio, basilico e latte. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il parmigiano, pecorino e i pinoli e tritiamo il frutto per 10 secondi a velocità a 10. Adesso andiamo a mettere da parte questo trito, riposizioniamo il boccale senza averla lavata e andiamo ad aggiungere le zucchine e il basilico e andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 6. Adesso riuniamo sul fondo con la spatola. Aggiungiamo il latte, aggiungiamo anche il sale e andiamo a cucinare per 6 minuti a una temperatura di 100 gradi a velocità 1. Adesso lasciamo raffreddare il composto. Il composto si è raffreddato, andiamo ad aggiungere il parmigiano, che è stato precedentemente ritato assieme ai pinoli e al pecorino, e l'olio. tritiamo per altri 12 secondi a velocità 8. Il nostro pesto è pronto. testo di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta. testo di zucchine. Grazie a tutti. testo di zucchine. Grazie a tutti. testo di zucchine. Grazie a tutti.